...sulcide, morale, non sempre la forza bruta prevale sulla stozia e sull'intelligenza. Professore, è rimase meno complimento. C'è nessun altro che ha coraggio di fare un'altra esposizione dopo questa esposizione, penso che è perfetta, e si alza un coatto che dice... Arcaogliere bianco, arcaogliere nero. Non lo so, azzò e azzò. Arcaogliere bianco e arcaogliere nero fanno a due euro. Ma arcaogliere nero ti ammazza arcaogliere bianco. Ma arcaogliere bianco c'aveva tre figli, tutte e tre sfidano arcaogliere nero. Ma arcaogliere nero ti ammazza tutte e tre. Ma questi tre figli c'avevano tre figli per uno. Tutte e nove ti sfidano arcaogliere nero. Ma arcaogliere nero ti ammazza tutte e nove. Ma questi nove figli c'avevano tre figli per uno. Tutte e ventisette ti sfidano arcaogliere nero. Ma arcaogliere nero ti ammazza tutte e ventisette. Ma questi ventisette figli c'avevano tre figli. Basta, dimmi la morale. La morale è che arcaogliere nero non gli è delica carchezza! Grazie! La sicura è di me! Grazie! Grazie.